E' con una certa emozione che mi accingo a parlare di questo invecchiamento che rappresenta per me lo scopo fondamentale della grande parte della mia vita. Io ho deciso di studiare l'invecchiamento quando avevo 15 anni, ce l'ho 65, sono 50 anni dopo e certamente non è con meno entusiasmo che vi racconto le cose che stiamo facendo. Voglio anch'io associarmi nel ringraziare la fondazione, non solo per avermi invitato, ma anche per celebrare l'idea che l'invecchiamento di successo è una cosa importante da perseguire per la scienza e per la società. E quindi veramente è con grandissimo piacere che mi accingo a parlare di fronte a voi. Dunque, questo primo schema rappresenta quello che ciascun medico o anche ciascun ricercatore nell'ambito biomedico ha imparato per capire le origini delle malattie, fare la diagnosi di malattia e dopodiché produrre una cura di malattia. Tutti sappiamo che ci sono delle predisposizioni genetiche, che queste predisposizioni genetiche agiscono a livello dei fattori di rischio, che quindi danno origine alla cumulazione della patologia e questa patologia poi all'inizio diventa subclinica, poi diventa clinica da origine dalle manifestazioni che vengono riconosciute come malattia e la malattia ha delle conseguenze funzionali. Nonostante la semplicità di questa struttura e l'educazione che noi abbiamo ricevuto nei dettagli di questa struttura, oggi in realtà questo semplice algoritmo si sta crettando. Stiamo capendo che è riduttivo, che forse non è il modo migliore per affrontare il problema della salute, soprattutto adesso che l'invecchiamento sta diventando così prorompente e così importante nella nostra società. Il primo problema è quello che la predisposizione genetica specifica di malattia non è poi così specifica, nel senso che se noi andiamo a vedere e studiare la letteratura scopriamo che ci sono dei geni che sono comuni attraverso malattie multiple. Per esempio c'è questo gene che è il gene della P16, della P16 che è una proteina molto importante, ve ne parlerò dopo per scapire la senescenza cellulare, e in realtà le mutazioni di questo gene sono associate con la lunghezza della vita, con la lunghezza della salute, con i tumori, con le malattie cardiovascolari, con una serie di malattie diverse che quindi fanno pensare che forse l'origine della malattia sia, diciamo, da ricondurre a un fenomeno globale, che ha un effetto sulla nostra salute che è globale e non specifico. Se poi andiamo a vedere i fattori di rischio, quello che ci hanno insegnato è che esiste una malattia, per esempio la malattia cardiovascolare, che esistono dei fattori di rischio per questa malattia che noi dobbiamo affrontare per fare la prevenzione. L'esempio delle malattie cardiovascolari è quello che il fumo, l'alcol, il colesterolo, l'ipertensione, la dieta, l'inattività fisica, l'obesità sono fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, ma se andiamo a vedere la letteratura e la studiamo in maniera non troppo specialistica, ma in maniera globale, scopriamo anche che ci sono delle malattie che hanno dei fattori di rischio che sono comune. Per esempio il fumo ha un effetto sulle malattie cardiovascolari, sul cancro ha un effetto sulla probabilità di avere un ingeri, sulle malattie croniche del polmone, sullo stroke, sulla demente e sul diabete. Infatti quando si confrontano e quando si interpreta la letteratura meno corretta, in realtà succede che si scopre che i fattori di rischio in realtà non sono così specifici e che agiscono contemporaneamente a livello di molte malattie e questo fa pensare ancora che ci sia un qualche cosa al di sotto che noi dobbiamo capire e che rappresenta una predisposizione che noi andiamo a sviluppare con l'invecchiamento verso le malattie croniche multiple. Noi sappiamo, anche se l'abbiamo ignorato per tanti anni, che l'invecchiamento rappresenta il fattore di rischio più importante. Se voi pensate per esempio che il fumo è un fattore importante per lo sviluppo del tumore del polmone, in realtà l'invecchiamento è 50 volte più potente dell'effetto del fumo. Sulla demenza l'invecchiamento è un fattore di rischio 155 volte più potente dell'effetto di ogni altro fattore di rischio che conosciamo e la sordità certamente è quello più importante. Però siccome fino ad oggi pensavamo che l'invecchiamento non so se modificabile, che l'invecchiamento biologico fosse un fenomeno naturale non modificabile, sono stati in realtà costruite una serie di artifici statistici per eliminare l'effetto dell'invecchiamento. Oggi sappiamo che questo è chiaramente un errore perché l'invecchiamento biologico probabilmente non è arrestabile, ma certamente è modificabile è modulabile da una serie di interventi. Quindi quando andiamo a vedere la patologia che si accumula con l'invecchiamento in realtà troviamo che ci sono una serie di fenomeni a comune che stabiliscono quali sono i cardini di questa biologia dell'invecchiamento. Non andrò nei dettagli qui, ma vi dirò semplicemente che nel 2013 un importante articolo che forse è un articolo di cardine per lo studio dell'invecchiamento ha stabilito che esistono nove cosiddetti hallmarks o vegi, nove punti fermi dell'invecchiamento. Forse non è una lista esaustiva, ma certamente la ricerca fa vedere come soprattutto nei modelli animali le modificazioni di questi hallmarks o vegi sono sottostanno alla genesi di molte delle malattie croniche. Per esempio uno di questi fattori è l'infiammazione cronica. Scusatemi, mi ci vogliono due o tre giorni per parlare in italiano, poi dopo qualche parola non mi viene, quindi mi scuso con voi. Ma l'infiammazione cronica, in questo caso per esempio i livelli di interlochina 6, sono il fattore clinico più importante che stabilisce non solo il rischio di avere malattie croniche multipla, ma anche il rischio futuro di sviluppare con rapidità maggiore un numero di malattie sempre più grande. E alla fine quali sono le conseguenze funzionali? Siamo stati abituati a studiare la salute in termini delle diangite di malattia, ma via via che studiamo l'invecchiamento scopriamo che in realtà la funzione è il vero asse di paragone per stabilire la capacità fisica e la salute. Questo è uno studio italiano, uno studio fatto sul progetto Inchianti, che ha fatto vedere come chiaramente studiare una variabile così semplice come la velocità del cammino. Quindi se io cammino da qui a lì e semplicemente vado a vedere quanto velocemente cammino, questo rappresenta un fattore prognostico di straordinaria potenza. Qui per esempio avevamo misurato la velocità del cammino alla prima valutazione nel progetto Inchianti e poi siamo andati a vedere questa popolazione come evolveva nel tempo. La prognosi quad vitam, cioè la capacità, la sopravvivenza in questa popolazione, in coloro che avevano una velocità del cammino inferiore a 0.8 metri al secondo, ve lo voglio far vedere perché è importante che lo vediate. L'effetto prognostico di questa condizione era maggiore e più importante dell'avere una malattia cronica così grave come un tumore maligno. Quindi il tumore maligno, ci sono centinaia e centinaia di pagine che sono state scritte nei grandi trattati di medicina, sulla velocità del cammino è stato scritto molto poco, ma il valore prognostico è più o meno lo stesso. E allora dobbiamo ricostruire un modello, no? Partire più dalla salute come diagnosi di malattia, ma dobbiamo trovare un modello alternativo. Questo modello alternativo rappresenta la chiave di volta dello studio dell'invecchiamento. Nathan Schock nel 1958 fondò il Baltimore Longitudine a Stadio Leggi dicendo che era necessario stabilire una frattura, capire quali erano le differenze tra invecchiamento e malattia. Questo argomento ovviamente è stato trattato da praticamente tutti coloro che mi hanno preceduto questa mattina. E in quel periodo il problema di questa divisione era legato al fatto che bisognava tirare fuori la normalità dell'invecchiamento per capire meglio le malattie. In realtà la ricerca sull'invecchiamento ci fa vedere sempre di più come sia impossibile questa divisione, perché gli stessi fenomeni biologici alla base dello sviluppo delle malattie sono anche quelli che sono responsabili del fenomeno dell'invecchiamento fenotipico, delle manifestazioni fenotipiche dell'invecchiamento. E allora il modello di riferimento diventa differente ed è riassunto per me in questo tipo di schematizzazione. Potremmo pensare che l'invecchiamento è dovuto all'interazione di due forze, una è l'accumulo del danno e l'altro è la capacità di reagire e riparare il danno, la resilienza, come la chiamano gli americani. E poi vedete nella prima linea, nella prima parte di questa diapositiva, qui, come al momento della nascita, della prima parte della vita, comunque avete l'invecchiamento, ma l'evoluzione e il programma che porta allo sviluppo del soggetto, del bambino, è così potente, è così ben fatto, è così ridondante, che la resilienza è fortissima e quindi nasconde completamente l'accumulo del danno. L'invecchiamento avviene lo stesso, ma viene nascosto perché c'è questo potente programma che viene implementato. E poi lentamente la resilienza si riduce e con la riduzione della resilienza voi avete l'emergenza del danno sempre di più con l'invecchiamento. Tuttavia l'invecchiamento può avvenire anche in maniera l'arrentata o accelerata. L'invecchiamento accelerato può avvenire, come vedete qui per esempio, perché il danno si accumula più rapidamente e supera le capacità, diciamo, di resilienza dei meccanismi biologici, oppure perché il danno avviene normalmente, ma queste capacità di compenso sono più piccole, sono meno potenti fin dall'inizio e diventano più deboli via via che l'invecchiamento avviene. Cosicché la fragilità e la mortalità precoce avvengono più rapidamente che nella popolazione generale. Infatti per me la migliore definizione di fragilità, nonostante tutte le discussioni della letteratura è quando per un soggetto il vivere è già un impegno troppo importante che la nostra fisiologia non è più in grado di affrontare. Ok, come si fa? Cosa dobbiamo fare? Come si passa da questo discorso concettuale a uno studio areale e clinico? Per me la domanda è molto semplice. Possiamo quantificare la resilienza nel periodo della vita in cui le malattie non si sono ancora manifestate? Guardate che non è una domanda teorica, è una domanda pratica. Quando si va dal medico, all'età tra i 30, 40, 50 anni, il medico fa finta di sentire il cuore, fa finta di sentire il torace, prende la pressione, vi chiede se avete mangiato, se fate esercizio fisico o no, vi manda a casa dicendovi che siete normali. In realtà voi sapete benissimo, come lo so benissimo io, che la patologia si sta accumulando nel vostro organismo, ma nessuno è in grado di quantificare quanto il nostro organismo è capace di reagire a questa patologia. E questa discrepanza tra l'accumulo della patologia e la vostra capacità di reagire alla patologia, quella che rappresenta la forza che alla fine fa emergere il fenomeno della malattia, fa emergere la modificazione funzionale che avviene successivamente. Quindi quello che dobbiamo fare è stabilire qui non solo quanto malattia abbiamo accumulato, ma quanto la nostra forza di reagire alle malattie sia accumulata nel tempo. Io vi farò vedere un pochino, se ci riesco, come abbiamo affrontato e come stiamo affrontando questo argomento nello studio dell'invecchiamento. Diciamo, se vogliamo dare una visione generale, noi siamo interessati a tre variabili, tre tipi di variabili. La prima di queste è rappresentata e quassù, la variabile funzionale, quanto un soggetto in grado di vivere la vita normale. Il secondo aspetto sono i fenotipi, cioè la forza muscolare, come funziona il cervello, le variabili fisiologiche e al di sotto di queste variabili ci sono le variabili biologiche, i meccanismi biologici che conducono questi sistemi e questi fenotipi a fermarsi nel corso dell'invecchiamento. Mentre nei primi due casi, cioè nel caso della variabile funzionale, delle variabili fenotipiche, noi sappiamo tantissime cose, perché gli studi le hanno, diciamo, delineate e studiate a fondo per lungo tempo, sappiamo molto poco delle variabili biologiche. Queste variabili biologiche sono note un pochino nei moderni animali, ma non sono state studiate nell'uomo e quindi trasporre queste misure che abbiamo fatto nei moderni animali nell'uomo, così che possano essere utilizzate nella pratica clinica e la scommessa del futuro. Ok, come procediamo? Ovviamente non ho tempo di raccontarvi tutte le cose che avvengono, diciamo, nella scienza dell'invecchiamento, ma voglio sforfermarmi tutti i tre punti, che secondo me dà, diciamo, una curiosità, dà una visione antropologica dell'invecchiamento, si trasformeranno rapidamente in interventi che il medico generale dovrà essere in grado di capire e somministrare. Il primo è la sconescenza cellulare, il secondo sono le modificazioni epigenetiche e la terza è la discursione mitocondriale. Non vi preoccupate, cercherò di guidarvi in questo scursus con parole più semplici che posso. Dunque, la sconescenza cellulare è una cosa recente ed è concettualmente molto semplice. Una cellula a un certo momento diventa instabile perché viene colpita dagli stress e gli stress possono essere di vario tipo, ma alla fine questi stress si concretano in una instabilità genomica, cioè il codice genetico diventa instabile. E voi sapete che l'instabilità genetica è molto importante perché porta alla trasformazione in tumore, allo sviluppo del cancro. Quindi questa cellula decide che non può trasformare in cancro, non può mettere a rischio l'intero organismo e ha una serie di possibilità di decisioni. Può morire, cosicché salva l'organismo e questo meccanismo è detto apoptosi, o può diventare senescente. La senescenza è semplicemente l'arresto della capacità di riprodursi. La cellula non si riproduce più, per cui non riproducendosi non genera più il cancro. Il problema è che, mentre questo meccanismo ci protegge dal cancro, allo stesso modo determina le malattie croniche, perché queste cellule che avevano una funzione nel nostro organismo non possono più svolgere questa funzione, cominciano ad accumularsi nei vari organi e questo accumulo determina la riduzione di funzione dell'organo. Non solo, ma esiste un altro fenomeno. Queste cellule richiamano il sistema immunitario in modo da poter essere rimosse e lo fanno attraverso la secrezione di una serie di sostanze, che sono soprattutto sostanze pro-infiammatorie. E queste sostanze pro-infiammatorie, che tecnicamente si chiamano senescent associate sector phenotype, sono essolutamente delle tede nell'ambiente biologico e quindi creano un danno circostante che partecipa alla formazione delle malattie croniche. I modelli animali, come vi dicevo prima, sono incredibili. C'è uno studio fatto alla Mayo Clinic, che anche questo è uno dei punti di volta di questa ricerca, che ha dimostrato che l'eliminazione di queste cellule tramite l'ingegneria genetica determina il ringiovanimento del topo. Il topo non sviluppa più la cataratta, non sviluppa più la riduzione della forza muscolare, non sviluppa di più le malattie cardiovascolari, non va più incontro alla riduzione della capacità della funzionalità renale. È una cosa incredibile. Questo avviene nel tratto che è stato geneticamente determinato, ma anche nel topo e nel tratto normale. Ovviamente questo non significa che questo accadrà nell'uomo. Tuttavia, Norman Sharples ha dimostrato che le cellule senescenti nel sangue aumentano con l'invecchiamento e questo aumento con l'invecchiamento predice lo sviluppo di malattie croniche. Per esempio, uno studio olandese ha dimostrato che il numero di cellule senescenti senescenti nell'acute aumenta con l'invecchiamento e si cordela con lo sviluppo delle rughe. Quindi le rughe che voi vedete nella vostra pelle comparire nel colto dell'invecchiamento è in realtà dovuto all'accumulo di cellule senescenti. Inoltre, l'accumulo di cellule senescenti nella struttura intermuscolare è associato alla perdita di mobilità, alla perdita di forza muscolare, alla probabilità centrale. E inoltre, le cellule senescenti si accumulano nel cervello e nel modello animale la rimozione di cellule senescenti determina l'arresto dell'accumulo di beta-amiloide, che è, diciamo, la biomarker più importante per la demenza di Alzheimer. E ci sono una serie di studi che fanno vedere come sia possibile farlo anche nei primati, cioè nelle scimmie questo effetto si vede lo stesso. Comunque, com'è possibile trasportare questa patologia? Com' misuro le cellule senescenti nell'uomo, nel paziente che mi è davanti? Certamente non posso andare e prendere un pezzettino di cervello e andare a vedere quante cellule senescenti si sono accumulate. Tuttavia diventa chiaro che queste proteine che vengono prodotte dalle cellule senescenti si accumulano nel sangue e possono essere misurate. Noi abbiamo visto in questo studio in cui prendendo un campione di sangue siamo andati a misurare 1300 proteine e abbiamo trovato quelle che sono più correlate con l'età. Ecco, quelle più correlate con l'età nell'80% dei casi sono le proteine secrete dalle cellule senescenti. Per cui è possibile, e si pensa che sarà possibile in futuro, in un semplice campione di sangue capire qual è l'accumulo di cellule senescenti nei vari tessuti. Vi dico semplicemente che questo non è fantasia, perché questa tecnica di eliminare le cellule senescenti è già stata utilizzata nella clinica. È stato fatto un clinical trial in una malattia che è incurabile, che è la fibrosi polmonare primitiva, e si è visto che in questi soggetti c'è un miglioramento della prognosi, un miglioramento della funzionalità e ci sono tutta una serie di studi, almeno 50 studi, che utilizzano i farmaci senolitici in una serie di malattie croniche, co-croniche compresa l'astrosi. Quindi i risultati potranno essere visti nel giro di 4-5 anni, non parlo di cose che si vedranno nei prossimi 30 anni. Il secondo di questi biomarchi dell'invecchiamento è la metilazione, è l'epigenetica. Ora, questo è Steve Horvath, che è la persona che ha studiato, diciamo, questo fenomeno più di chiunque altro, scusate, mi sono andato troppo veloce, Steve Horvath, diciamo, ha capito che nel nostro DNA ci sono dei marker e che questi marker si modificano in maniera predittiva e predecibile con l'invecchiamento e che la modificazione precoce di queste marker del DNA, diciamo, ci permette di stabilire qual è l'età biologica dell'individuo. Ora, voglio fermarmi un secondo per dirvi che se c'è una goccia di sangue che è caduta per terra di fronte a me, studiando quella goccia di sangue, io so esattamente qual è l'età di quest'individuo con una tolleranza di uno o due anni al massimo. Dieci anni fa questo sarebbe stato impossibile. Se qualcuno avesse stabilito che era possibile fare questo gli avrebbero detto che era pazzo. Invece noi sappiamo oggi che questo è possibile. Non solo è possibile, ma le informazioni che derivano dall'emotificazione epigenetica si correlano con la prognasi, cioè per esempio si associano con la mortalità, coloro che hanno questo invecchiamento precoce dell'epigenetica invecchiano più rapidamente e che quindi hanno anche una maggiore mortalità e queste modificazioni epigenetiche sono sensibili a quelli che noi consideriamo i normali fattori di rischio. Coloro che mangiano più vegetali, che mangiano meno carne, che sono più fisicamente attivi, che non hanno l'ipertensione, che non hanno un'obesità centrale, tendono epigeneticamente a invecchiare in maniera più lenta. È importante questo, perché questo ci dà una prospettiva di quello che accade nella vita, perché realmente la vita, se ci pensate un attimo, è la continua interazione tra il nostro codice genetico, è stato dato dai nostri genitori, e come il nostro codice genetico interagisce con le modificazioni ambientali esterne ed interne. Pensate per esempio quello che accade nelle prime fasi della vita, nel primo anno, nel secondo anno. L'organismo si adatta, è in un ambiente caldo, in un ambiente freddo, in un ambiente dove c'è abbastanza cibo, dove non c'è abbastanza cibo. Questo modifica e modula l'espressione genetica, ma questo marchio che noi stabiliamo nei primi anni della vita ce lo portiamo poi nel corso di tutta la vita successiva. Il nostro codice genetico da anziani è fatto delle tante, tante, tante tentativi di adattamento che avvengono nel corso della vita e quindi quello che siamo è in realtà il risultato di tutti questi adattamenti. Quindi quando studiamo l'invecchiamento, non dobbiamo studiarlo solamente negli anziani, ma dobbiamo studiarlo nell'evoluzione che porta l'invecchiamento dalla nascita in poi e probabilmente anche prima della nascita. Vi faccio vedere solo questo, vi dico che il codice epigenetico predice l'età anche nei soggetti che sono, diciamo, più giovani. Ok, salto un pochino a diapositiva perché sono un po' in ritardo. Vi dico, la funzione mitocondriale mitocondriale ovviamente è estremamente importante perché i mitocondri rappresentano l'energia e noi abbiamo bisogno di energia per reagire alle stress che ci vengono dalla vita di tutti i giorni e quindi per evitare le malattie. Noi possiamo studiare i mitocondri nel soggetto, diciamo, vivo, negli uomini, perché lo facciamo tramite la risonanza magnetica nucleare. Non vi dico come, ma nelle domande, diciamo, durante la discussione posso espandere, diciamo, sulla tecnologia che è estremamente complessa ma è estremamente interessante allo stesso tempo. La funzione mitocondriale si riduce con l'invecchiamento, la funzione mitocondriale è responsabile della capacità fisica, della velocità del cammino e il mediatore di questo è la nostra forza muscolare perché il muscolo è uno degli organi che richiede più energia di ogni altra parte del nostro corpo. Ma quello che è importante è che i mitocondri sono in grado di utilizzare sia i lipidi che i carboidrati per funzionare e produrre energia. Uno dei fattori più importanti che determina le limitazioni funzionali degli anziani è la fatica, il fatto che gli anziani si sentono stanchi. Quante volte avete sentito una persona anziana dire, va bene, posso fare tutto ma alla fine della giornata sono esausto. Oggi sappiamo che la fatica, la percezione della fatica è legata al fatto che nei soggetti anziani c'è una maggiore utilizzazione dei carboidrati rispetto ai lipidi. Pensate che come carboidrati nel nostro corpo noi abbiamo circa 4.000 calorie da spendere, non tante, mentre abbiamo circa 120.000 calorie di lipidi. Se il soggetto comincia a utilizzare i carboidrati deve mandare un'informazione al cervello che questa forte d'energia è esauribile per cui non lo potrà fare per lungo tempo e questa percezione che arriva al cervello dell'utilizzazione dei carboidrati è trasformata come la sensazione di fatica. Devi fermarti perché se non ti fermi questa assolta di energia si esaurirà prima che tu abbia finito quello che devi fare. Quindi devi riacquisire questa energia. Oggi sappiamo che quindi shiftare e invitare i nostri mitocondi a utilizzare i lipidi e non i carboidrati è in caso di ridurre la sensazione della fatica negli anziani. Nei modelli animali, questo è già molto chiaro, ma ci sono già gli studi nell'uomo e ci sono già le molecole in corso che sono in grado di fare questi cambiamenti nei nostri mitocondri. Salto per dirvi che c'è una, secondo me, quella che è la trasformazione più importante che avverrà nella ricerca futura, che è lo studio dell'alternative splicing. Che cos'è l'alternative splicing? Salto tutto per dirvi questa cosa qui in maniera molto generica. Il nostro codice genetico contiene circa 22.000 geni e non sono tantissimi, nel topo ce ne sono di più. La banana ha 12.000 geni, quindi non è che ci siano tante differenze. La grande differenza è che noi utilizziamo i nostri geni in maniera molto molto più complicata e molto molto più intelligente. In ogni gene ci sono due tipi di codice genetico, gli ezoni e gli introni, e questi possono essere combinati in maniera differente per costituire tante tante differenti varianti di proteine. Le proteine sono circa 10.000, ma in realtà sono molte 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 di più, circa un milione. E noi sappiamo oggi che queste proteine in realtà diventano più complessi con l'invecchiamento e mediano molti dei meccanismi biologici della resiliency. Studiare i meccanismi di questa alternative splicing e capire in che modo l'organismo si adatta ci permetterà non solo di studiare il danno, ma anche di interagire sui meccanismi di compenso. E questo secondo me sarà la chiave di volta per la ricerca futura. Salto tutto e utilizzo un minuto in più della mia presentazione per dirvi possiamo misurare la resilienza nei soggetti anziani? Io direi che dalla ricerca questo è sicuramente possibile. Non avverrà domani, ma non arriverà tra 100 anni. Siamo molto vicini, siamo di fronte a una rivoluzione della medicina in cui a meno che i medici si adattino e capiscono e siano in grado di gestire questi modelli diciamo più biologici, non saranno più in grado di curare non solo le persone anziani, ma anche le persone giovani in maniera efficiente ed adeguata. E quindi spero che questa ricerca venga traslata alla clinica in brevissimo tempo. E finisco per dire che questo convegno che c'è stato all'NIH, la cosetta geroscience, è proprio la chiave di volta. Mettere insieme il concetto di invecchiamento e di malattia e capire che sono in realtà la stessa cosa e lo stesso processo fisiologico. E molte delle società internazionali specialistiche hanno accolto questo invito in questa riunione dell'NIH che è stata aggrimita di specialisti che hanno deciso di lavorare insieme per capire quali sono questi elementi presupponenti e capire se si possono modulare in modo da creare una vecchiaia più sana e certamente una vecchiaia in cui l'individuo si è in grado di gioire di tutte le possibilità che la società e ciò che intorno offre loro. Grazie e mi scuso per il ritardo.